Il design insieme alla tecnologia, il connubio che si vede con chiarezza qui alla 24esima edizione di Eurocucina che tra l'altro avviene in coincidenza con l'altra rassegna, Technology for the Kitchen. C'è ovviamente tutto il gusto del Made in Italy, la ricerca dei nuovi materiali, che però si sposa con avanzamenti tecnologici, tra forni che riconoscono i singoli prodotti e organizzano la cottura di conseguenza, tra piani di induzione che contengono integrata una cappa di aspirazione oppure elettrodomestici che parlano tra di loro e possono essere controllati a distanza. SMEG è design e tecnologia, quindi accoppiare quello che è il design e queste grandi firme alla tecnologia che invece quella evolve nel tempo e quindi bisogna evolvere insieme ad essa. Tutti i feedback, le segnalazioni, le osservazioni che arrivano dai nostri rivenditori sul territorio noi cerchiamo di raccogliere e svilupparle per poi presentare le nostre novità a questo appuntamento imperdibile del Salone del Mobile. È molto importante interpretare in anticipo le richieste dei consumatori, arrivare anche con soluzioni tecniche a dare maggiore funzionalità ma soprattutto una maggiore facilità nell'utilizzo dei prodotti, la nostra concezione di un prodotto interpretato con i canoni artistici e ovviamente funzionalità è qualcosa che non è ancora presente sul mercato quindi un messaggio distintivo e tecnologicamente avanzato. Importantissimo quello che è l'impatto appunto alla circolarità del prodotto, noi abbiamo la certificazione che il 96% dei nostri prodotti può rientrare nel ciclo produttivo o essere recuperato, il più grande impatto poi è quello anche degli elettrodomestici da cui c'è un'attenzione molto molto elevata per i consumi energetici. Per noi Firenze è un'ispirazione, negli stilemi rinascimentali degli edifici che ci circondano abbiamo trovato davvero il senso di quello che facciamo, una spinta a fare sempre meglio. Basti pensare che uno degli spazi dell'azienda che amiamo di più è una cappella rinascimentale dove abbiamo inserito un blocco cottura nostro, facciamo delle cene private con i nostri clienti e lo facciamo innanzitutto perché è quello che amiamo fare, al di là di ogni prospettiva di business.